Bene amici ed amiche, eccoci per questo video editoriale di politica, non poteva mancare le lezioni in Umbria, abbiamo i risultati che sono un po' scontati per certi versi, però poi toccare con mano la sensazione della concretezza ti riporta, è come una sperla che ti arriva in faccia, adesso mi arriva, mi arriva, ma quando ti arriva poi diventa, un po' ti scuote. L'Umbria ha confermato che ormai c'è questo vento che espira verso il centro-destra, ma soprattutto verso la Lega Nord di Salvini, ormai è inarrestabile, un'onda d'urto che rischia di travolgere, tra virgolette, o comunque di conquistare l'Umbria, la Calabria, tutte le regioni e perché no anche il governo. Allora a questo punto bisogna fare delle riflessioni, perché i numeri in politica sono quelli che contano, anche se il test dell'Umbria è un test ridotto, però poi è inutile che ci prendiamo in giro in Italia e questo è il vento che espira in questo momento. Noi possiamo dire pesta e corna della Lega Nord di Matteo Salvini, però è quello che parla alla pancia degli italiani, ma non al cuore, quindi poi la sottile differenza è questa. Quindi è chiaro che sta travolgendo tutte e tutti e si prenderà anche quello che sarà il governo, è solo questione di tempo. Per cui l'analisi dell'Umbria è centrodestra batte il centrosinistra con un 22% di scatto, una cosa incredibile. Fratelli d'Italia raddoppia i voti, Forza Italia non pervenuto, ormai è un partito estinto, il Movimento 5 Stelle è anche lui inconsistente, 0, l'8%, non mi ricordo bene la percentuale, ma veramente sono numeri da estinzione epocale. Il PD è in affanno, gli manca il respiro, insomma tutte le strade portano alla Lega Nord a Matteo Salvini, quindi che cosa fare adesso? Intanto in politica vanno accettati quelli che sono i numeri, vanno fatte le analisi, ma le analisi non lasciamo le fare ai politici, perché poi i politici te la girano, te la girano, te la votano e hanno sempre ragione loro, sia che vincono sia che perdano. Le analisi le facciamo un po' noi, anche chiacchierando con voi cittadini per le strade, con i mezzi tecnologici, con i social, con Internet, Youtube, Instagram, eccetera. Quindi cerchiamo di capire come non arginare, come fare in modo che comunque chi meriti vada al governo e non è che sappia governare. È chiaro che questo governo che sta basando tutta la sua politica, anche la finanziaria, un po' facendo anche del terrorismo secondo noi, manette, contro manette, tassa di qua, tassa di là, la gente è impaurita. Ma al di là di questo, quello che noi notiamo è un po' la mediocrità della politica. La mediocrità della politica fa sì che uno come Matteo Salvini della Lega Nord possa emergere in Italia e diventare leader. Se voi analizzate Matteo Salvini, in ogni cosa che fa, lui ripete sempre le stesse identiche cose, ma questo funziona e gli sta portando voti a valanga. Quindi arginare poi con le manette agli evasori o con il contante limitato, e lì apri delle praterie infinite, perché la gente poi questo non vuole, assolutamente. Bisogna cercare di trovare un sistema, ma questo è il compito dei politici, a noi interessa poco, che governi Salvini o che governi Conte con Di Maio, a noi non ce ne frega nulla. Quello che ci interessa è che comunque noi, come Calabria, come Reggio, come il mio paese Roccaforte del Greco, ci siamo messi non male, di più. Allora il mio paese Roccaforte del Greco è sparito, non ha un forno, non ha un tabacchino, non ha una scuola, non ci sono abitanti, i giovani se ne sono andati, non c'è un campo sportivo, eppure c'è un sindaco lì, messo lì a fare che o cosa. Se veniamo a Reggio, in città, le cose non è che cambino molto, nel senso che Falcomatà cerca di fare il possibile, poi l'impossibile se non ha i soldi, come riesce a farlo? Quindi a cascata, la Regione Calabria poi non ne parliamo, Oliverio è una frana incredibile, non ha mai avuto i numeri per governare, nonostante questo, e qui è colpa della minoranza e sono andati avanti, perché? Perché non rinunciano allo stipendio? A me questo dispiace dirlo, ma questo è, c'è una politica di basso livello che dà spazio a una politica di bassa lega, mi piace questa battuta, una politica di basso livello che dà ampi spazi delle praterie alla politica di bassa lega nord. Quindi è inutile adesso poi andare a fare filosofi, andare a fare la politica e numeri, chi in questo momento ha i numeri bisogna ammetterlo è la lega di Matteo Salvini. Piaccia o non piaccia, incluso noi, tanto sapete come la pensiamo, piaccia o non piaccia, questo è, e adesso? E adesso? E adesso arriva il bello. Bene, questa è la frecciata dell'Arcere Luigi Palamara, appuntamento questa sera alle 5 con il flash mob di Fratelli d'Italia al Cilea e a seguire alle 5 e mezza la relazione che farà Falcomatà con la sua amministrazione dei 5 anni di suo governo nella città di Reggio Calabria, quindi a più tardi.